Farò un video molto veloce, avevo già fatto il video, solo che mi è venuto mentre, oh mamma mia, mentre si segnava e niente, mi si è girato lo schermo, un disastro, la Fiorentina è finale, la Juve fuori dai coglioni cioè ragazzi sono al settimo cielo, non so neanche se riuscirò a dormire, parlo piano perché comunque sono quasi mezzanotte dormono già da due ore gli altri e niente, peccato, peccato per il video che ho fatto perché addirittura dall'emozione mi sono messo pure a piangere, Barak e Gonzales ci portano in finale e grande Fiorentina, grande Fiorentina ci abbiamo creduto, ci abbiamo creduto fino a un fondo le solite cazzate difensive che ci hanno fatto prendere un gol che mi ha fatto cagare in mano, c'avevo i battiti a 140, roba da infarto a proposito dell'infarto speriamo che il vertifoso della Fiorentina stia bene e che non sia successo nulla in grave, ora certamente andiamo tutti a dormire che domani alle 6 c'è la sveglia e speriamo che domani mattina quando ci svegliamo ci siano buone notizie da da Basilea e comunque sia, niente, la Fiorentina ha già prenotato il volo per Praga siamo al finale ragazzi, siamo al finale, è una grande goduria c'è la mia biavola qui si è addormentata con le ciabatte, con le crocs addirittura c'è un calzino sì o un calzino no e niente, grande Fiorentina tutti, tutti a parte Brecalo e anche nel secondo tempo che è entrato Icone non bene insomma Brecalo e Icone poi il restante tutti benissimo, veramente tutti alla grande il capitano ha giocato benissimo, Castrovilli ha giocato bene, Amrabat ha giocato bene Igor ha fatto la cappellata però non ha giocato male, Milenkovic ha giocato bene una grande, una grande Fiorentina e niente, siamo in finale e tutti a Praga niente, non c'è niente da aggiungere, ribadisco, peccato per il video che ho fatto prima che è venuto a cazzo di cane, vabbè pace bene fratelli, me lo terrò, me lo terrò per me, me lo guarderò per me anche se è tutto storto perché comunque l'emozione che c'è stata è stata incredibile e come vi dicevo mi sono anche, mi sono venute anche sulle lacrime perché insomma dopo tantissimi anni siamo in finale e ora ne abbiamo due di finale da giocare e vinciamola, una, una me la vincete quest'anno vero, me la vincete sola, me ne va bene una, poi se sono due le prendiamo tutte e due, io ragazzi vi saluto buonanotte, forza viola, tutti a Praga le buonanotte, forza viola, tutti a Praga le